La segna stampa di oggi 16 dicembre, vediamo quali sono le notizie principali della giornata. Ovviamente ce n'è una di cronaca che riguarda e che interessa molto gli italiani, cioè che hanno pizzicato a Saragozza dopo che ha ammazzato tre persone, due persone e una ferita, tre persone ammazzate da Igor il russo, che poi ovviamente non si chiama così, non si chiama né Igor né il russo. La storia di Igor il russo però è molto significativa perché in realtà se poi è andata a leggere le cronache è lui che si è fatto prendere, cioè non volontariamente, ma è lui che è caduto, che lui ha fatto un incidente in macchina ed è stato quindi arrestato, svenuto in macchina con le tre pistole delle persone che aveva appena ammazzato nel sedile accanto. Quindi nessun blitz, nessune teste di cuoio, nessuna capacità di investigazione, nulla di tutto ciò. Lui quando era stato braccato da due guardie spagnole più da un pastore spagnolo, gli spara, gli uccide, prende la macchina di costoro, scappa, in realtà quando scappa non si capisce bene perché alla fine va fuori strada con la sua auto che aveva appena rubata e viene dunque catturato poi dopo dalle cosiddette teste di cuoio che sono riuscite a arrestarlo e dunque oggi verrà giudicato ovviamente alla Spagna perché avendo ammazzato tre spagnoli probabilmente saranno loro a giudicarlo in prima battuta. La cosa divertente, si fa per dire perché ci sarebbe da piangere su Igor, è la dichiarazione del Ministro di Giustizia Orlando che dice che l'arresto è un risultato che dimostra quanto sia importante la collaborazione e la trasmissione di informazioni tra Paesi. I ministri non è necessario che sempre debbano dire qualche cosa, uno di questi che ha voglia di parlare tutti i giorni è Calenda, alcune volte dice cose molto ragionevoli, uno che ha voglia di parlare tutti i giorni è Orlando e spesso purtroppo dice cose non ragionevoli come questa perché l'arresto ha poco a che fare con lo scambio dei dati con l'Italia, ha a che fare con la latitanza di un pericoloso bandito che è andata per una volta male. Grande discussione oggi sui social network, su Twitter e qualcosa sui giornali per una canzoncina che ha fatto che Cozzalone in cui dice la parola tabù per l'Italia che è diventata frocio. Ovviamente capisco bene qual è il motivo per il quale la comunità gay si arrabbia perché associa alla parola frocio un concetto negativo, un concetto di scherno, un concetto di pregiudizio e allora non vuole sentirselo dire. Però oggi in fondo c'è ragione, sentite un po' bene che cosa dico io, gramellini, quando dice ragazzi ma di che stiamo parlando? Io penso che tutti gli omosessuali di questo paese con un po' di testa e tutti i gay di questo paese con un po' di testa hanno capito perfettamente in che contesto che Cozzalone diceva la parola frocio, esattamente uguale ai contesti in cui lui ha fatto l'attore e prendeva in giro tanti tic dell'ignoranza italiana. Se questa cosa qui non è comprensibile, frocio, non frocio, omosessuale, non omosessuale, gay, uomo, donna, etero, si tratta semplicemente di uno stupido, chiaro o di una stupida, perché prendere sul serio una roba di questo tipo e considerare omofobia e sessofobia la battuta ieri di che Cozzalone dà forse il segno che forse abbiamo oltrepassato il limite nelle nostre suscettibilità riguardo a tutto. Ma vi dico che questo segno, e mi sembra di averlo passato e di aver capito che è passato, quando Elena Maria Elena Boschi, intervistata da Lilli Gruber e incalzata come par suo da Marco Travaglio, a un certo punto si difende dicendo ce l'avete con me perché sono una donna. Ecco, questo atteggiamento di vittimismo e di accettare e non accettare le critiche degli altri, violentissime, gli insulti degli altri, violentissimi, rifugiandosi dietro al proprio genere e non dicendo che Travaglio è semplicemente un cafone violento. Come è sempre un cafone violento? Beh, questo dà il senso di come si sia ovviamente buttata nel cesso una battaglia corretta di riconoscimento del minoranza, di riconoscimento delle diversità e questioni. Cosa c'entra il fatto che sia donna con tutti i pasticci che Maria Elena Boschi ha combinato? Ed è la terza grande notizia della giornata perché ieri l'ex amministratore delegato di Veneto Banca ha raccontato di un incontro che ci sarebbe stato a casa Boschi, padre della Boschi, presidente di Banca Etruria, l'ex amministratore delegato di Veneto Banca e il presidente di Veneto Banca. Si sono visti a casa Boschi e queste quattro persone che si sono viste a casa Boschi, guarda caso lì nel salotto, seduto nel salotto, chi c'era? Il ministro Boschi, cioè la figlia del padre stava lì seduta insieme a quelli che stavano discutendo se e come fondere le loro banche fallite con la banca polare di Vicenza che poi fallirà anch'essa e che viene comprata a zero euro, anzi con la dote da banca intesa. Insomma, mi sembra di capire che la signora Boschi che non ha probabilmente fatto pressione per il papà, però un po' le mani in questa pasta per conoscerla, oltre forse ai suoi ruoli istituzionali ce l'ha avuta, va bene? Poi è vero che un ministro della Repubblica si deve occupare delle vicende che riguardano il suo territorio ed è vero ed è normale che un ministro si debba occupare di una banca che sta saltando soprattutto se la conosce bene quell'industria e quella banca, ma è anche vero quello che dico io è che questa cosa bisognava rivendicarla, non fare il muto e lo zitto. E poi, ah, in una certa misura di ragione Gian Antonio Stella, anche se non condivido una posizione di Gian Antonio Stella, diceva che la Boschi non si deve occupare della sua banca perché si deve occupare di tutta Italia e non solo del suo territorio. E qui veramente allargo le braccia, Stella, ma che cosa stai dicendo? I parlamentari è anche giusto che si occupino del loro territorio nonostante siano eletti dalla Repubblica e di tutti i cittadini della Repubblica. Questi nostri giornalisti che pensano sempre al mondo migliore, non si rendono conto che poi il mondo è fatto di carne, sangue e, come diceva formica, merda, scusate la parola, ma era quella che diceva formica quando si parlava di politica, qua i giornalisti stanno loro nelle loro stanzette e pensano sempre che tu non debba avere a che fare con quella roba là. Ma il punto invece segna che secondo me è interessante il pezzo di oggi di Stella e dice che la Boschi, oltre a difendersi come donna, una cosa ridicola, dice ma come mi permettete a mettere in dubbio la mia parola? Ecco, questo elemento della Boschi, oltre che ridicolo, è ipocrita, perché come si sono messi in mente di dubitare della parola di Iosefa idem quando la fecero fuori Renzi e Boschi dal governo perché aveva intestato come prima casa una sua palestra al suo marito? Come si sono permessi, hanno messo in dubbio la buona fede della ministra Guidi, trattata dal governo come una sguattera del Guatemala per qualche cosa per cui è stata completamente assolta e l'hanno fatta fuori dal governo? Come mai hanno messo in dubbio la parola di lupi che è stato fatto fuori dal ministero, da Renzi e dalla Boschi per una vicenda che poi si è risolta anch'essa senza nulla di fatto? Allora c'è ragione Stella di dire che non è possibile che la Boschi deve pretendere fiducia su se stessa, sulle sue colazioni fatte con Vegas, sulle sue frequentazioni con i banchieri, sul fatto che ne abbia parlato con Gizzoli, sul fatto che abbia fatto una riunione a casa sua in cui ha partecipato il padre sulla banca e come fa? Quindi qui il tema non è le banche, è l'arroganza della politica renziana di quel paesino, di quella provincina dove sono loro che pensano che a loro sia tutto concesso ma loro stessi sono spietati nei confronti di chi a loro non concedono nulla, vi ho citato soltanto tre casi ma vale per tutto quanto il mondo politico, ovviamente. I sondaggi, e questo è il grande problema, danno il PD a questo punto sotto addirittura il 20% dice Repubblica, non ci credo perché poi al 20% probabilmente arriveranno e qui sono cavoli perché ricordatevi il 20% del PD vuol dire che si cambia tutto perché sono 6-7 punti percentuali che sono in libertà, possono andare alla sinistra di Grasso, possono andare forse al Movimento 5 Stelle ma comunque potrebbe cambiare la situazione e su questo si inserisce un altro tema che oggi tutti i giornali affrontano e cioè dove si candiderà la Boschi, ma se la Boschi, dico io e qualche giornalista è così convinta del suo aver fatto bene, si deve candidare ad Arezzo perché andare a candidarsi come qualcuno dice in Campania, in qualche altra zona un po' più sicura per il PD vuol dire scappare dalla tensione, se non c'è nulla da nascondere, perché non si candida là dove maggiormente vuole vendicare il suo ben fatto e mi chiedo ancora, i napoletani sono scemi o i salernitani o il posto in cui lei si candida sono talmente scemi i pidini di quel posto che accettano la Boschi, diciamo che forse potrebbe andare in una lista proporzionale ma anche quella lista proporzionale potrebbe essere falcidiata se tanto odiata dal voto popolare, insomma rappresenta un problema oggi la Boschi per il voto del PD e questo su questo tutti i giornali lo candono, dice Alessandro se si candida ad Arezzo fa un bagno di sangue, è evidente che ad Arezzo dove le banche e la questione etruria è più calda sono molto più arrabbiati, lo considerano come se si candidasse il figlio di Zonin a Vicenza, non è responsabile probabilmente delle colpe del padre, anche la Boschi non è responsabile probabilmente delle colpe del padre, però qualche partecipazione alle riunioni del padre la Boschi oggi mi sembra le abbia fatta. Ciao Luca, la Boschi è fritta, dice, beh questo è poco ma sicuro rispetto ai cagnoni con cui Renzi ha fritto tutti i suoi politici e i suoi vicini di casa che avevano commesso molto, erano stati sputtanati molto meno della Boschi, mi sembra del tutto evidente. Sallusti, concluderei, fa un pezzo un po' diverso oggi dicendo, beh ragazzi oggi sono tutti come Asia Argento, cioè si accorgono tardi di quello che succede nelle banche e di quello che ha fatto la Boschi. E tra questi, io però non concordo con Alessandro, ci mette anche Vegas, ma Vegas, il presidente della Consob non è che ha fatto un'operazione strana, ha precisa domanda, ha detto sì mi sono visto con la Boschi che si informava, ma il presidente della Consob non è che il giorno dopo fa un'intervista e dice guarda con chi mi son visto, ha milioni di informazioni e non ritiene lo stesso Vegas che quella roba che ha fatto col ministro sia una cosa così politicamente rilevante, tanto più che Vegas non poteva assolutamente dire e fare alcunché sulla questione bancaria, posto che è materia della Banca d'Italia. O ritorniamo nell'ambito normale, nell'ambito normale un ministro che si informa di una banca non cambia nulla, non è una cosa incredibile, se fa fricolazioni cambia qualcosa e soprattutto come nel caso di Albuschi, se ha il padre dovrebbe avere nella banca vicepresidente, nominato vicepresidente dopo che lei è diventata ministro, dovrebbe avere l'accortezza che è banale intelligenza, forse non gliel'hanno spiegato nelle sue straordinarie università dove oggi sembra una studentessa Monello, insomma dovrebbe avere la straordinaria accortezza di non mettersi mai nelle condizioni di essere in un conflitto anche potenziale di interesse sulla banca dove il padre lavora e fa il vicepresidente. Se vi è piaciuta questa zuppa, anche se non vi è piaciuta e la odiate, condividetela su Facebook che è fondamentale per la diffusione delle nostre zuppe e vi auguro una buona domenica e un buon acquisti natalizi che è il lavoro del sabato, del weekend prima di Natale. Ciao!